Ciao, sono Luca Manelli e in questo video tutorial voglio mostrarti una tecnica per importare il disegno di VG o un documento di VG all'interno del tuo file Archicad. Questa tecnica amo chiamarla impatto zero, proprio perché non andrà a generare nessun tipo di importazione di retini o di lucidi all'interno del tuo file. È una tecnica che potrai utilizzare tranquillamente nel caso in cui avrai la necessità di confrontare i disegni di VG che magari ti vengono mandati dall'ingegnere strutturale con i tuoi disegni architettonici all'interno di Archicad. Vediamo come funziona questa tecnica. La prima cosa che vado a fare sarà quella di creare un foglio di lavoro indipendente. Vado a creare un foglio di lavoro perché normalmente consiglio di non andare a importare i dvg all'interno dei piani di Archicad. Utilizza i piani di Archicad solo e esclusivamente per gli elementi di Archicad e per disegnare tridimensionalmente all'interno di Archicad. Per cui dal navigatore seleziono la cartella fogli di lavoro e faccio clic con il tasto destro. Vado a selezionare la voce nuovo foglio di lavoro indipendente. Archicad mi aprirà questa palette dove vado a mantenere il codice ID che mi viene proposto e vado a modificare invece il nome. Ecco, avendo la possibilità di dare un nome ad ogni foglio di lavoro avrai la possibilità anche di creare tanti fogli di lavoro quanti sono i disegni dvg da importare. Ora non devo fare altro che cliccare su crea e automaticamente Archicad mi porta all'interno del foglio di lavoro. Puoi vedere che è selezionato nel navigatore e che abbiamo un pannello foglio di lavoro attivo. All'interno del foglio di lavoro ora andrò a importare il disegno dvg. Ora dal menu archivio contenuto esterno vado a selezionare la voce posiziona disegno esterno. Archicad andrà ad aprirti la finestra di dialogo file con il tuo harddisk e vai a selezionare il disegno in formato dvg. Nel caso in cui non viene visualizzato e sei sicuro che all'interno della cartella c'è il dvg ricordati del menu abilita. Hai la possibilità di selezionare tutti i tipi disponibili come ho attivo io in questo caso oppure dall'elenco andare a selezionare la voce dvg. Io ora vado a selezionare il file, clicco sul pulsante apri e Archicad mi va ad aprire questa finestra che è l'unica finestra che ti apre per questo tipo di importazione. In questo caso non stiamo usando il traduttore, andiamo solo e esclusivamente a gestire l'unità di disegno. L'unità di disegno che dobbiamo impostare ci permetterà di importare o meno il disegno in scala. Allora il mio disegno è stato disegnato in metri per cui andrò a selezionare la voce un metro. Nel caso in cui il disegno che devi importare è stato disegnato in centimetri oppure ti viene detto che è disegnato in centimetri, allora in questo caso dal menu andrò a selezionare la voce personale millimetri e all'interno del primo box va a inserire il valore 10. 10 mm uguale 1 cm. Io ora riporto il menu a un metro e clicco su posiziona. Archicad adesso mi sta chiedendo dove andare a posizionare il dvg. Visto che sono vicino all'origine mi posiziono vicino e faccio un clic. Vado a tutto scalare e come puoi vedere abbiamo importato il disegno dvg. Come facciamo a capire che è stato importato nella scala corretta? Beh, come puoi vedere io sullo sfondo del foglio di lavoro ho la griglia. La griglia è in archicad è impostata di default a 2 m per 2 m. Dal menu visualizza, griglie e opzioni, piano di editazione, area di disegno e griglie. Come puoi vedere la prima griglia ha uno spazio di 200 per 200, cioè 2 m per 2 m. Io ora ho l'unità di lavoro impostata in centimetri. Allora, avendo una griglia di 2 m per 2 m, possiamo vedere che se questo lato è 25 m, allora abbiamo il disegno in scala, lo vediamo ad occhio. Nel caso in cui abbiamo un disegno molto piccolo e la griglia molto grande, ricordati che devi andare a riscalare il disegno, stessa identica cosa nel caso in cui abbiamo la griglia molto piccola e il disegno grande. Ora abbiamo importato il disegno e il disegno come è stato importato? Beh, se io lo provo ad andare a selezionare, puoi vedere che vado a selezionare un unico blocco. Proprio perché questo tipo di importazione ha importato il disegno attraverso lo strumento disegno. Lo strumento disegno è lo strumento che in Archicad ti permette di andare a gestire i disegni all'interno del layout. Avendolo importato con questa modalità, abbiamo una serie di vantaggi. Uno di questi è sicuramente il fatto che se il disegno comprende non solamente quello che ti interessa, ma anche altre parti, avrà la possibilità, dopo aver selezionato, di andare ad utilizzare l'offset lato sui vari lati del disegno per andare a ritagliare il disegno stesso. Il disegno, così come è importato, non lo puoi andare a modificare. Nel caso in cui vuoi, ad esempio, portare delle modifiche, volendo puoi selezionare il disegno e con il tasto destro andarlo ad esplodere all'interno della vista corrente. Ricordati però che l'esplosione andrà a esplodere anche le eventuali quote. In questo caso, se sai che devi andare a modificare il disegno, allora ti consiglio di utilizzare il comando Unisci da gestione file. Adesso, visto che abbiamo posizionato il disegno sul foglio di lavoro, vediamo come poter andare a ricalcare o andare a confrontare questo disegno con gli elementi che abbiamo sui piani. Vado ad aprire il piano terra e ora, andando a richiamare il sottolucido riferimento da menu finestra e palette, attivo il sottolucido e dal menu vado a sfogliare per scegliere che cosa proiettare. Seleziono il foglio di lavoro e confermo con OK. Nel caso in cui il tuo disegno è un po' sbiadito, ricordati che nella voce riferimento è la possibilità di cambiare il colore della proiezione. Come puoi vedere abbiamo proiettato il contenuto del foglio di lavoro, per cui il nostro dvg, sul piano terra. Se vado a toccare ogni spigolo, Archicad riconosce i vari snap, riconosce anche il lato. Vedi che si attiva lo snap, in questo caso sulla metà del lato. Questo mi permette, se vado a selezionare ad esempio lo strumento muro, di andare a ricalcare il disegno in maniera da poter trasformare il disegno bidimensionale in dvg che ho importato in un disegno tridimensionale realizzato con Archicad. Ecco, questa era una tecnica per poter importare il file dvg all'interno del tuo file Archicad e poterlo confrontare, ricalcare, fare tutte le operazioni del caso. Grazie a tutti.